È stato un anno nuovo, diciamo un po' uscito dal nulla, ho iniziato l'anno senza nessuna aspettativa, poi abbiamo iniziato a lavorare in due sense, abbiamo visto che era un buon equipaggio, a quel punto abbiamo partecipato appunto al secondo meeting dove abbiamo vinto la selezione e così avremo partecipato al mondiale assoluto, essendo anche Under 23 abbiamo partecipato quindi anche al mondiale Under 23 dove appunto abbiamo conquistato il titolo di campionese mondiali e da lì a fine agosto abbiamo partecipato anche a quello assoluto dove abbiamo fatto seconde e devo dire un anno fantastico sotto tutti i punti di vista. Ci racconti le emozioni che avete provato durante le due finali? Allora per la finale a Sarasota dell'Under 23 eravamo secondo me più consapevoli delle nostre potenzialità perché comunque avevamo contro ragazze più o meno della nostra età e è stata una bella gara perché ci siamo messi subito in testa e gli ultimi 500 metri quando eravamo davanti è stato bellissimo, mentre invece per l'assoluto è stato proprio un mondo totalmente diverso perché eravamo olimpici, ci allenavamo in mezzo a persone che avrebbero da lì a poco qualificato le barche per le olimpiadi e era proprio un altro mondo. Siamo scesi in acqua forse con un'altra mentalità sapendo di essere comunque le più piccole, avevamo contro l'America che con due ragazze molto più grandi di noi, con più esperienza di noi ma abbiamo comunque portato a casa una medaglia che mi rimarrà sempre nel cuore. Due medaglie, un'ora in argento costruite con grande sacrificio, con tantissimi allenamenti. Sì certo, come ogni anno sia lavoro invernale che estivo è sempre molto lungo e faticoso e diciamo che questo ripaga comunque tutti i lavori, tutti i sacrifici, tutto il tempo dedicato ad allenarsi e comunque a questo sport in generale, quindi è bellissimo. Ed è bello vedere che attorno a voi in questa società si sono creati progetti e risultati importanti. Sì esatto, quest'anno ci sono state tante maglie azzurre, non solo noi ma anche tanti altri nostri compagni e anche la squadra più piccola si sta piano piano formando, diventando sempre più forte ed è bello lavorare insieme, in gruppo perché da soli non si va da nessuna parte. Una stagione eccezionale per il canottaggio femminile azzurro e anche per te Lucia, hai conquistato un bellissimo argento nel quattro senza, un bronzo nell'otto, ma ti aspettavi questi risultati all'inizio stagione? Assolutamente no, ho dato il massimo fin da subito perché comunque il mondiale era lontano, a Tokyo, probabilmente infatti la squadra non sarebbe stata al completo come poi è stato, quindi già semplicemente essere classificate per andare al mondiale era davvero un'impresa tostissima, ce l'ho messa tutta e poi quando mi hanno detto che sarei nata a Tokyo è stato davvero un sogno. Ci racconti le due finali? Allora la finale del quattro senza temevamo tanto la Cina e la Germania anche perché le batterie l'avevamo vinta però eravamo il terzo tempo totale appunto dietro Cina e Germania e sapevamo che la Cina gli ultimi mille li faceva davvero fortissimo, allora siamo cercati di partire forti come sempre ed siamo stati davanti più di metà gara, poi al 7.50 la Cina è iniziata ad avvicinarsi, noi abbiamo provato a riattaccare però erano davvero superiori a noi e quindi è andata comandata però comunque soddisfatte. L'8 invece era la seconda gara sia per noi che per le altre quattro compagni che avevano appena vinto l'oro in quattro con e infatti le altre gare sulla gambe si sono sentite, ce l'abbiamo messa tutta, siamo partite dietro e con una grandissima chiusura siamo riuscite a prenderci per pochissimo il bronzo davanti agli Stati Uniti. C'è un segreto per la grande forza di questo settore femminile del Roving Club genevese che veramente annovera tante ragazze che quest'anno sono state protagonisti? Allora il segreto potrebbe essere quello di aiutarci a vicenda perché è stata una costruzione che è partita prima di tutto dalla società assolutamente, che ha fatto di tutto per agevolarci e tra di noi risultato su risultato, ognuna insegnava qualcosa alle altre e così abbiamo avuto tanti successi tutti. È stata una stagione diciamo difficile fin dall'inizio perché avevo obiettivi più alti come andare a Tokyo, soltanto che sapevo che sarebbe stata molto difficile, infatti ci ho messo tutto il cuore però non ci sono riuscita, sono comunque felice del risultato che ho ottenuto, che sono andata alla CUP e è stata dura anche lì partecipare e conquistare le due medaglie perché non conoscevamo le avversarie ovviamente, però soprattutto la domenica che siamo riusciti a conquistare l'oro dopo il bronzo di sabato, ci abbiamo messo proprio tutto il cuore e tutta la forza che avevamo e ce l'abbiamo fatta, è stata proprio una bella vittoria avendo passato quest'anno duro. Come avete creato il feeling nell'equipaggio pur non avendo avuto tantissimo tempo per allenare? No, subito eravamo un po' disorientate perché sapevamo del poco tempo, però volevamo riscattarci per l'anno e ci abbiamo messo veramente tutto. C'è una dedica speciale per queste medaglie? Sì, alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, a mia mamma e ai miei nonni, soprattutto ai miei fratelli, un po' tutti e anche alla società che comunque mi ha permesso di arrivare dove sono arrivata. La grande stagione internazionale del rowing si chiude con gli europei under 23 con una bellissima medaglia di bronzo. Sì, siamo molto contenti e sono molto soddisfatta perché è stato proprio il coronamento di tutti questi anni, di questa stagione di fatica, di sudore e non poteva finire meglio. Raccontaci un po' l'esperienza di questa gara in finale. È stata una bellissima esperienza, anche perché per me era la prima gara a livello internazionale e confrontarmi con le altre nazioni ti rendi proprio conto di come le altre realtà siano molto differenti dalla nostra. E' stata molto competitiva, non ce l'aspettavamo, però è stato bello proprio per quello. Siamo contenti perché abbiamo veramente dato tutto quello che potevamo e è stata una bella gara. La dedica di questa medaglia? Ah beh, sicuramente in primis la dedica di questa medaglia va lassù a mio papà che mi ha sempre accompagnato, ci è sempre stato dall'inizio alla fine di questo percorso. Poi vabbè, alla mia famiglia e a questa società che anche lei è stata un po' la mia seconda casa per tutti questi anni. Tante donne vincenti, tante donne medagliate, ma anche il settore maschile, Giorgio dice la sua, il Mondiale Under 23 è stato importante, è arrivata una medaglia d'oro con Giacomo Costa nel quattro di Coppia Pesiregieri, è arrivata anche una bella medaglia per te. Sì, sono davvero contento perché comunque era tantissimo tempo che cercavo di prendere una medaglia al Mondiale e finalmente ce l'ho fatta, sono contento perché poi l'ho fatta in una specialità che a me piace particolarmente, il quattro senza, mi sta molto caro perché comunque l'avevo già provato l'anno scorso e l'anno scorso in finale ce l'ho arrivato ma non era andata molto bene e invece quest'anno comunque abbiamo notato fino a fine, abbiamo guadagnato un terzo posto che per me vale come se fosse un oro perché ci abbiamo lavorato tantissimo, io particolarmente con tutto l'equipaggio abbiamo lavorato tanto e ce l'abbiamo fatta, sono molto contento. È stata per te una stagione molto impegnativa con tanti appuntamenti? Sì, il partito è stato lunghissimo perché comunque noi iniziamo ad allenarci già dall'anno scorso, inverno ci siamo iniziati ad allenare e è iniziata con un titolo italiano vinto a inizio anno alla gara sul fondo di Pisa, poi tutti gli appuntamenti, i meeting nazionali, comunque abbiamo sempre fatto tutte le gare, sono state le prove dure, poi tantissimi raduni, raduni a Trieste, raduni a Piediluco, è stato molto lungo, poi il raduno finale a Piediluco e finalmente poi siamo andati in America. C'è già lo sguardo proiettato sul prossimo anno, insomma che cosa ti piacerebbe fare? Sicuramente mi piacerebbe continuare perché sono arrivato a un punto che tecnicamente di solito in questo momento la gente smette o dà sì da tutto il canotaggio, io vorrei provare perché comunque sono arrivato qua e quando arrivi qua dici perché non provare a fare qualcosa di più, ora so che sarà difficilissimo perché comunque l'anno prossimo sarà l'anno olimpico, quindi squadra senior è quasi impossibile entrare, quindi uno deve lavorare in prospettiva di l'anno prossimo lavorare sodo e l'anno dopo provare a entrare posto olimpico, però non è mai detto nulla, quindi uno lavora per cercare di fare il meglio possibile. Qui la squadra è molto forte, non soltanto a livello di atleti, a livello agonistico, ma c'è anche uno staff di allenatori, una dirigenza che spingono, remano tutti dalla stessa parte. Sì, devo essere sincero che tutto questo, tutti i risultati comunque bisogna dire soprattutto grazie alla società perché la società ci ha messo le possibilità di fare qualsiasi cosa, tutte le gare, tutti i raduni sempre disponibili e soprattutto anche gli allenatori perché comunque senza di loro che ci seguono mattina, sera, tutto il tempo non sarebbe stato possibile, quindi ringrazio la società, gli allenatori e ovviamente vorrei anche ringraziare tutti i miei compagni con cui mi alleno tutti i giorni perché ovviamente allenarsi con loro è spettacolare e sicuramente rende le cose meno faticose.